Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali sulla Siena-Firenze, fino al 9 ottobre, per lavori, transito consentito a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata per circa 3 km tra Badesse e Siena Nord. Lo svincolo di Badesse resta temporaneamente chiuso verso Siena fino al termine dei lavori. Voltiamo pagina per il traffico aereo e il volo Firenze-Barcellona delle 17.30, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 22.55. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Rosignano e Campiglia Marittima oggi e domani sono chiuse al pubblico. Domani, inoltre, è chiusa anche la biglietteria di Cecina e di Figlini a Valdarno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!